Onorevole Buonanno, perché la Lega Nord chiede le dimissioni del ministro allo sport e alle pari opportunità? Perché questo governo dice che deve combattere l'evasione fiscale e si scopre che c'è un ministro, cioè la IDEM, la quale ha fatto in modo di avere due residenze negli anni precedenti, una con il marito e una per lei, facendo in modo a questo punto di non pagare l'IMU, seconda casa, di avere gli sgravi sulla luce, perché come prima casa, di avere altri vantaggi e poi ha una palestra che a quanto pare non è stata dichiarata per quello che è e quindi probabilmente ci sono anche problemi nell'ambito edilizio, c'è anche da vedere la verifica che si è comprata una casa come prima casa e invece c'era una seconda, c'è anche una differenza sull'IVA molto importante e poi comunque in generale, visto che si è autodenunciata per pagare quello che non ha pagato in precedenza, casualmente qualche giorno prima delle elezioni, fa pensare che questo giochino che ahimè fanno in tanti, soprattutto in certe parti del paese, non deve essere fatto e quindi se eletta firma contro i paradisi fiscali, il ministro probabilmente il paradiso fiscale se l'è fatto a Ravenna da sola, quindi noi chiediamo appunto che se così stanno le cose, questo ministro deve andare a casa, perché se era ministro in Germania, visto che è il suo paese di origine, avrebbe dato le dimissioni in automatico, siccome siamo in Italia, lo chiediamo a noi.